Amici del SS Fanta, ben ritrovati per un nuovo video, la sosta per i nazionali è finita, c'è già stato un turno di campionato ma ci sono dei giocatori che hanno fatto bene all'ultima, sono in forma e che possono continuare a trascinarvi nel finale di stagione partiamo da Rafa Leao, uno dei top del Fanta Calcio che però per quasi tutta la stagione non ha reso come da aspettative però ultimamente è tornato, si è rivisto soprattutto contro la Fiorentina il vero Leao, quello che può fare gol, assist, quello che fa con le sgroppate che sono spesso decisive per il Milan e per il Fanta Calcio e quindi può concludere la speranza questa il Fanta con questo tipo di rendimento con questo tipo di livello che già va fatto vedere in Europa League soprattutto anche nei mesi scorsi ad esempio contro il PSG però non troppo in campionato, invece adesso anche se vediamo poi le prossime giornate contro Lecce e Sassuolo prima del derby Leao può continuare così. Un altro big o quasi big del Fanta Calcio è Scamacca che non ha avuto un rendimento da big più che altro dal punto di vista della continuità perché uno da un top al Fanta Calcio si aspetta che giochi sempre e che sia trascinatore, spesso non ha giocato o per infortunio o per scelta di Gasperini però ultimamente è tornato, da qualche settimana è uno Scamacca importante per l'Atalanta prima in Europa League e poi anche al Fanta Calcio con il gol contro il Napoli vuole anche un posto importante nazionale, questo lo spingerà a fare bene, a chiudere bene la stagione quindi Scamacca adesso c'è, adesso è considerato da Gasperini, ha fiducia quindi può trascinarvi finalmente sarebbe da dire anche al Fanta Calcio appunto dopo il gol che ha fatto al Napoli scendiamo un po' di livello, a livello di nomi Salem Akers è un centrocampista che non è da primi slot però sta facendo il suo ha fatto gol e assist contro la Salernitana in casa, una partita in cui tutti o quasi l'hanno schierato quindi è anche facile diciamo andare a prendere i suoi bonus se continuerà così se avrà ancora questo tipo di rendimento, buoni voti gli sono un po' mancati diciamo i bonus che magari hanno avuto Orsolini, Zirgze nel Bologna ha fatto due gol, quindi il secondo gol è stato quello contro la Salernitana l'altro l'aveva fatto al Sassuolo, quindi confermando anche questo tipo di schierabilità che può farvi anche comodo nella gestione da qui alla fine con un Bologna che vuole andare a prendersi la Champions League e quindi continuare a far bene con un Salem Akers che vuole far bene quindi anche per il Fanta Calcio altro nome è quello di Alexis Sanchez, un po' sorpresa perché i titolari sono Turam e Lautaro però l'Inter dovrebbe andare a vincere a breve, tra poche giornate, il campionato quindi magari può anche aumentare il minutaggio di Sanchez che tra l'altro è il più in forma in questo momento d'attacco dell'Inter visto che Turam e Lautaro hanno tirato la carretta per tutta la stagione adesso sono un po' stanchi, Sanchez invece sta molto bene ha fatto zero gol fino a Lecce, poi da lì ha fatto un assist poi bonus anche nel recupero contro l'Atalanta praticamente cinque bonus, due gol e tre assist in poco più di un mese quindi Sanchez è in gran forma ed è da mettere a prescindere alla prossima giocare contro l'Udinese di Toven che ha fatto cinque gol e tre assist in questa stagione alla fine un buon rendimento, buon acquisto per chi ha preso la serie parazione l'Udinese deve salvarsi quindi Toven che è in forma può portare ancora bonus visto che soprattutto nelle ultime settimane e mesi ha fatto bene lui era partito titolare senza fare bene tanti cinque e mezzo poi era finito in panchina, Cioffi alla fine gli ha ridato fiducia adesso non lo toglie più chiudiamo con un difensore, Bellanova perché è mister 6 e mezzo difensore da modificatore un mesetto fa era in una forma starripante, faceva un bonus a partita tra gol e assist ultimamente, proprio nelle ultime partite si accontenta diciamo così di 6-6 e mezzo può tornare ancora al bonus in queste ultime il Torino sta andando bene quindi Bellanova da difensore con il modificatore soprattutto può trascinarvi, pensate che l'ultima insufficienza 5 contro Bologna, l'ha preso la tredicesima giornata e poi dalla sedicesima giornata lì è iniziato diciamo il Bellanova rendimento top e da lì ha fatto un gol e 4 assist, prima aveva fatto solamente un assist quindi adesso è tutto un altro Bellanova per altri consigli l'app SS Fanta ciao